Deve avere molto da fare per mandare gente come te Aiutanti, solo studenti inesperti E' occupato a dare la caccia a quell'altro di nuovo arrivato E tu vieni a fare domande a me Entrare nella mente di un assassino Non è poi così facile Perché pensi a questi gesti Come macabri se in fondo sono onesti Nel bisogno di riempire Le esigenze hanno un loro senso, un loro gusto Sei tornata sulle mie tracce C'è qualcuno che non si dà pace E' il momento questo di tornare a mangiare Miam miam Non sono stato promosso per caso Mi cercate di nuovo o mi sbaglio Sto pensando chi potrà invitare per pranzo Miam miam Entrare nella mente di un assassino Non è poi così facile Perché pensi a questi gesti Come macabri se in fondo sono onesti Nel bisogno di riempire Le esigenze hanno un loro senso, un loro gusto Vuoi provare?